Estra e le associazioni dei consumatori toscane firmano un protocollo di autoregolamentazione per contratti non richiesti di luce e gas per assicurare ancora più chiarezza e trasparenza nelle vendite. Estra e Centria, la società di distribuzione della multiutility, hanno promosso sicurezza delle reti e formazione all'annuale forum di Milano Unicig, appuntamento tradizionale per gli operatori della filiera gas. Centria, la società di distribuzione del metano di Estra nel 2018, ha controllato tutti i 5.000 chilometri della sua rete, ha effettuato 4.500 ore di formazione e investito 19 milioni in nuovi impianti e reti. Anche Estra, tra i marchi del Rai Radio 2 Summer Live, l'atteso evento estivo di dirette e concerti dal vivo in giro per l'Italia di Rai Radio 2, che partito a giugno da Cervia si chiuderà a metà luglio a Portorecanati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.